Ciao ragazzi e benvenuti al Trading Show. Questa settimana parleremo di Mercati, rimbalzo dei bond, il portafoglio, settimana positiva sul bitcoin, spunto operativo, bias intraday sulla sterlina inglese e i rollover settimanali. E se sei interessato al trading sistematico, iscriviti al nostro canale per ricevere le notifiche sui nostri video settimanali. Sono Francesco Placci, responsabile R&D per la Unger Academy. Cominciamo subito con la panoramica sui mercati per vedere assieme che cosa è successo nel corso della settimana. Settimana tranquilla sui mercati, non c'è veramente molto da segnalare se non il fatto che siamo tornati per quanto riguarda gli indici a ridosso dei massimi storici, questo è il mini SP, ma potete notare come il movimento abbia perso un pochino di forza, ovviamente questo livello funge da resistenza. Vedremo nella prossima settimana se saranno in grado gli indici di superare questa resistenza e di proseguire nella loro corsa. Stesso discorso anche per il Nasdaq è molto vicino ai massimi storici. Per quanto riguarda il comparto obbligazionario, notiamo una ripresa dell'andamento dei bond americani ma anche del bond europeo e stanno un po' risalendo, sapete che sono scesi molto nel corso degli ultimi sei mesi. Degno di nota è poi anche il rendimento del natural gas nel corso dell'ultima settimana che segna oltre il 5% di risalita e detto questo sicuramente c'è poco altro se non la performance negativa di tutto il settore dei cereali nel loro complesso. Negative anche le valute mentre il bitcoin come vedete è sostanzialmente stabile è rimasto sui livelli della settimana scorsa in questa zona di consolidamento. Sul fronte volatilità sono ovviamente crollati i valori di percentile, abbiamo livelli di volatilità molto bassa sia nel breve che nel lungo periodo. Passando alla volatilità implicita vediamo una struttura termine che è in completo contango quindi molto ben delineata con un VIX che si trova sui livelli più bassi degli ultimi 10-12 mesi e quindi è questo un chiaro segnale che gli operatori non hanno nulla da temere al momento circa l'andamento futuro degli indici azionari. Ora che abbiamo visto alcune statistiche chiave sui mercati finanziari e visto che noi trader sistematici utilizziamo anche queste informazioni per costruire le nostre strategie automatiche andiamo come di consueto a dare un'occhiata al nostro portafoglio di trading system per vedere come i sistemi hanno reagito alle attuali condizioni di mercato. Buongiorno a tutti da Alessandro Danos e bentornati a questo nuovo appuntamento con l'analisi dei sistemi del nostro portafoglio. Per sistemi del nostro portafoglio intendiamo quei sistemi, quelle strategie che sono attive in questo momento su uno, almeno uno dei nostri portafogli. Questa settimana voglio parlarvi di Bitcoin che è sulla bocca di tutti ormai è uno strumento molto chiacchierato sia per quello che riguarda diciamo il suo aspetto fondamentale, quindi l'innovazione che ha portato Bitcoin e sia anche per la volatilità che questo strumento esprime e ha espresso soprattutto negli ultimi anni possiamo dire dalla data del suo lancio e in particolare proviamo a vedere se esistono delle strategie che possiamo sfruttare in maniera automatica. In particolar modo la risposta a questa domanda è sì, assolutamente. Vi mostro infatti due sistemi che sono piuttosto simili tra loro e sono entrambi trend follower e entrambi only long, quindi entreranno soltanto con posizioni real system e la size fissa utilizzata o meglio il capitale utilizzato per poi andare a calcolare le size con cui entrare sul mercato è di 100.000 dollari e questi 100.000 dollari andranno poi a essere inseriti all'interno di un calcolo quindi con anche l'average true range per valutare il numero dei contratti in relazione allo stop loss che la strategia vuole utilizzare. Partiamo da questo primo sistema che come abbiamo detto è un breakout, vediamo che nell'ultima settimana dopo un piccolo stop loss è riuscito a ottenere un bel profit target, profit target lo possiamo vedere del valore di oltre 3.300 dollari quindi sicuramente un trade molto positivo e questa è l'equity line del sistema che vediamo a seguito diciamo di un breve momento di drawdown sta tornando a performare molto bene grazie proprio a questo ultimo trade messo a segno nella giornata di ieri. Passando invece alla successiva strategia è molto simile possiamo dire a quella precedente anche se è un po' diversa a livello di condizioni anche qui siamo riusciti a ottenere un bel profitto sempre ovviamente con il lato long come abbiamo detto la strategia entra soltanto long e anche andando a vedere qui l'equity curve del sistema possiamo vedere che i risultati sono stati molto costanti nel tempo, il trend following come metodo su questo mercato ha funzionato parecchio bene quindi in generale sul mondo delle criptovalute sembra funzionare molto bene il trend following e in questo momento ci troviamo diciamo in un leggero drawdown da cui anche qui stiamo provando a uscire grazie a quest'ultimo trade, ultimo trade in questo caso più piccolo di quello precedente del valore di 1.450 dollari possiamo vedere anche dall'annual period analysis i risultati che ha fatto registrare questa strategia vediamo che nel 2021 i profitti ammontano a oltre 13.700 dollari e quindi vi invito a provare anche a voi a sviluppare qualche nuovo sistema automatico su questi mercati che sono sicuramente nuovi e quindi su cui purtroppo lo storico non è così abbondante ma che possono essere un buon punto di diversificazione per quello che è il vostro portafoglio. Ricorda tutti che i dati usati sono quelli di Binance che fornisce un data feed gratuito e attraverso sempre Binance e la Unger Academy potrete anche usufruire di uno sconto lifetime del 20% sulle commissioni di questo broker. Buongiorno a tutti e benvenuti da Andrea Nebbiolo oggi approfondiamo di nuovo un prodotto futures e in particolare torniamo sulla sterlina inglese in particolare questo futures è appunto sulla coppia valutaria sterlina contro dollaro americano quindi sterlina inglese contro dollaro americano e è quotato presso il CME di Chicago e ha un valore per punto pari a 62.500 dollari questo è importante saperlo perché chiaramente avendo un moltiplicatore magari diverso rispetto invece a euro dollaro o altri futures valutari bisogna poi tenere conto anche di questo aspetto quando si vanno ad analizzare le metriche per ogni contratto proprio perché il contratto può avere un valore sensibilmente diverso rispetto a un altro futures valutario oppure un altro futures in generale. La sessione va dalle 17 fino alle 16 del giorno seguente e solitamente ovviamente con l'orario di Chicago dalla domenica al venerdì mentre invece il simbolo solitamente si chiama 6B oppure BP a seconda del vostro fornitore di dati. Ecco quello che sono andato a fare in particolare era diciamo che l'intenzione era quella di vedere come rispondesse questo mercato ad una logica di bias intraday per cui quello che sono andato a fare è stato innanzialmente quello di provare a comprare e vendere ad ogni ora del giorno e per vedere poi il tutto meglio ho deciso di esportare il report di ottimizzazione in Excel quindi se vedete qui in tutte queste colonne ci sono di fatto tutte le varie metriche a seconda dell'ora della giornata dell'ora del giorno in cui ci si trova e poi per mia comodità ho semplicemente graficato il net profit che si sarebbe conseguito comprando ad ogni barra e chiudendo l'operazione alla barra successiva tramite un grafico ad histogrammi giusto per vedere ogni barra che cosa porta in termini di contributi ed eventualmente poi anche per capire in fretta come impostare poi effettivamente il sistema di tipo bias. Ad esempio qui io quello che ho deciso di fare di base è di comprare tutti i giorni alle 9 di mattina e chiudere alle 15.00 quindi diciamo di tenere un'operazione long all'interno di questa fascia della giornata mentre invece per quanto riguarda lo short quello che ho provato a fare sono state diverse possibilità diverse alternative. la prima che ho provato è stata quella di andare al ribasso alle 15.00 e di chiudere al ribasso poi alle 9.00 della mattina precedente quindi all'apertura proprio di questa barra qua quindi appena finisce questa qui delle 8.00 che infatti è negativa ancora con l'approccio lungo ovviamente. Ho provato poi anche invece ad aprire lo short a mezzanotte e poi chiuderlo alle 9.00 perché qui in mezzo c'erano altre barre rialziste quindi avrei rinunciato sia queste due barre ribassiste ma avrei evitato anche queste barre qua ma non c'era alla fine molta differenza in termini di risultati tutto sommato il sistema andava meglio comunque andando al ribasso alle 15.00 per cui ho cambiato poi sono tornato diciamo sull'idea originale di andare short alle 15.00 per poi chiuderlo alle 9.00 quindi andiamo a vedere i risultati tutto sommato l'annual non è particolarmente esaltante ma neanche terribile insomma ovviamente adesso fa ancora molti trade la strategia perché non c'è alcun tipo di filtro al momento vediamo solo che nell'ultimo periodo sembra quasi che dopo la brexit dopo il referendum di brexit le cose siano leggermente peggiorate nel senso che effettivamente a parte il 2017 gli altri anni non è che per ora abbiano mostrato risultati particolarmente esaltanti e gli unici due anni negativi praticamente li abbiamo dopo la brexit quindi questo forse potrebbe essere un campanello d'allarme e in parte l'ho già riscontrato anche su altri sistemi però ecco da segnalare appunto che questi due anni negativi comunque sono verso la parte finale più recente che non è una cosa ovviamente stupenda. Questa qui invece è l'equity della strategia tutto sommato è un'equity buona per essere un'equity appunto di una strategia al momento grezza quindi che deve essere ancora poi eventualmente affinata. L'unica se vogliamo criticità un po' è l'average trade che è piuttosto basso c'è però da dire come vi accennavo in precedenza che il contratto della sterlina futures, il contratto futures sulla sterlina vale la metà ad esempio di quello di su euro dollaro che invece ha un valore per punto di 125.000. Ecco che quindi anche questo average trade un po' basso in realtà se messo poi il rapporto anche rispetto al valore del contratto non è così tanto terribile si potrebbe provare a lavorarci un pochino sopra anche se come base di partenza soprattutto sul lato long direi che piuttosto scarno a mio avviso. Settimana densa di scadenze, venerdì prossimo sarà infatti la giornata delle tre streghe quindi la scadenza tecnica di futures su indici, opzioni su indici e opzioni su azioni quindi venerdì prossimo andranno in scadenza tutti i futures sugli indici azionari americani ed europei vi ricordo però che per quanto riguarda i futures sugli indici americani solitamente vengono rollati con circa una settimana di anticipo quindi abbiamo già provveduto ad effettuare il rollover. Abbiamo inoltre anche la scadenza del VIX futures il 16 giugno e infine vi ricordo che nonostante la scadenza del crude oil sia il 22 giugno solitamente viene rollato con qualche giorno d'anticipo quindi verso fine della prossima settimana sarà da effettuare il rollover anche sul crude oil future. Spero che questo video ti sia stato utile se ti piacciono i video della Unger Academy e vorresti vederne altri non dimenticare di iscriverti al nostro canale e se vuoi scoprire di più sul metodo di trading che usiamo e insegniamo alla Unger Academy non perderti il nuovo libro di Andrea Unger si intitola il metodo Unger la strategia vincente del quattro volte campione del mondo di trading e al suo interno Andrea spiega passo passo come funziona il metodo di trading che gli ha permesso di vincere quattro campionati del mondo di trading e che anche tu puoi usare per migliorare il tuo approccio ai mercati e per raggiungere i tuoi obiettivi di trading e la cosa migliore è che adesso puoi averlo gratis pagando solo le spese di spedizione il libro contiene anche una ricca area bonus in cui troverai dei link ad alcuni video riservati esclusivamente a chi ordina il libro non farti sfuggire l'occasione di portare il tuo trading ad un livello superiore clicca sul link in questo video e ottieni subito la tua copia gratuita di il metodo Unger paghi solo le spese di spedizione